Qualche settimana fa abbiamo fatto i Krafen e li abbiamo fatti con la crema di nocciole. Oggi è giusto accontentare chi come me ama la crema pasticcera. Amici, la ricetta di oggi saranno dei bomboloni, impastati a mano, pronti in poche ore e belli e buoni come quelli della pasticceria. Io li ho riempiti con della crema pasticcera e della confettura alle fragole, impreziosendoli con dello zucchero anch'esso profumato alle fragole. Continuerò a rimanere di parte, ma per me crema pasticcera vince su tutto.